La pace del Signore si è condotta in noi, miei cari, nella grazia. Ancora stasera vorrei salutarvi con un grande amore nella pace e nella gioia del Signore Gesù Cristo. Fatemi sapere come state, più che altro perché quando pregherò, pregherò per più costanza nel bisogno di qualcuno particolare. E con questo vi dico che il Signore ci ha benedetti e chi fa la sua volontà, il Signore continua a benedirlo. Perciò, miei cari, nella grazia cerchiamo di mantenerci sempre nella fede e tirare sempre dritto sulla strada che Gesù ci ha prefissato attraverso la Sua parola. Con questo mettiamo alcune foto. Gloriosi, Signore. Gloriosi, Signore. Alleluia. 1 1 Grazie a tutti. 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 Padre Santo Dio d'amore ti voglio dare ringraziare per ogni cosa Signore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.